Si chiama Teatro Eschilo Lab, si tratta di un laboratorio dove da ieri è possibile assistere ad eventi live, mostre di pittura e fotografiche, presentazione di libri, incontri ed appuntamenti culturali. Teatro Eschilo Lab sorge nel cortile antistante del teatro comunale in uno spazio tutto l'aperto in piazza Salandra a Gela. L'obiettivo del laboratorio è quello di offrire uno spazio in un'atmosfera accogliente e intima in cui potersi confrontare. L'architetto Gianni Mauro che ha curato l'immagine di un'area che prima di ieri non era stata mai utilizzata. Qualche mese fa il gestore del teatro gli è venuta in testa questa cosa, cioè utilizzare questo cortile, in effetti abbandonato. E allora ci siamo messi su, mi ha chiamato e abbiamo installato poca roba ma molto significativa per dare un aspetto decoroso a quel cortile e farlo diventare una piccola nicchia di cultura della città. Il teatro per l'inverno, per l'estate, questo luogo apparentemente, come dire, via d'uscita apparentemente. Oggi invece è un luogo dove potersi riunire, incontrare e godere della cultura e della buona musica. Il colore predominante e il bianco, perché? Il bianco perché bisognava essere molto rispettosi comunque di quella che era la storia di quel cortile. Originariamente quella era una chiesa e allora abbiamo optato per lasciare quasi tutto neutro e due piccole tocche di colore, il blu e il giallo, che vanno a integrare o quando meno a rendere piacevole quel luogo per non lasciarlo proprio totalmente neutro. Il teatro Eskilo Lab ieri ha avuto un ospite d'eccezione, il noto cantautore catanese Luca Madonia, storico componente di De Novo, è tornato nel panorama musicale italiano con un nuovo album, La Monotonia dei Giorni, realizzato con la collaborazione di Carmen Consoli. De Novo è stato il primo amore, il primo amore non si scorda mai. Eravamo ragazzini con tanta voglia di fare, di suonare, di azzardare. Peraltro in anni anche bui per Catania, noi veniamo da Catania, c'era veramente poco, gli spazi per suonare non esistevano, era tutto difficile, però c'era l'entusiasmo dei vent'anni. E devo dire che il fatto che ancora sono qui a fare musica dopo 33-34 anni è la cosa più bella che potesse capitarmi. E il tuo rapporto con la cantantessa, con Carmen Consoli? È una grande amica, abbiamo lavorato insieme sul mio ultimo disco, che si chiama La Monotonia dei Giorni, era venuta ospite il mio dibattito alla Sanremo nel 2011. Devo dire che è amicizia vera.